Il momento più brutto di questa campagna elettorale è stato quando, a Macerata, un uomo ha fatto quello che sapete. Quell'uomo si è messo un tricolore sulle spalle. Mentre sparava alla sede del PD e a sei ragazzi di colore, si è coperto le spalle col tricolore. Io vorrei che la nostra campagna elettorale si concludesse con un gesto simbolico. Vorrei che tutti insieme, qui, adesso, cantassimo l'inno nazionale per dire che l'Italia non è di quegli assassini fascisti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.